e venne un uomo che ci portò la luce una luce nuova per illuminarci la via ma purtroppo quella luce la vedono in pochi perché non sanno guardare con il cuore allora il mondo si divise in due parti e ancora oggi gli uomini non sanno da quale stare natale 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 allora è arrivato natale natale è la festa di tutti si scorda chi è stato cattivo si baciano i belli ed i brutti si manda gli auguri agli amici scopriamo che c'è il panettone bottiglie di vino moscato e c'è il premio di produzione natale è nato si dice poi fu crocefisto aveva diviso il mondo in due parti e quelli che l'hanno trattato più male sono quelli che hanno inventato il natale 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 c'è l'angolo per il presepio e l'albero per i bambini i magi, la stella, la cometa e tanti altri cosi divini i preti tirati a parata la legge racconta che onesta le fabbriche vanno più piano insomma è un giorno di festa è nato si dice poi fu crocefisto aveva diviso il mondo in due parti e quelli che l'hanno trattato più male sono quelli che hanno inventato il e l'ora si può sapere cosa è che senti a fare qua? cantare cantare è il problema dei via natale 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 Grazie a tutti.